Banda del Bancomat in azione a Salzano. Nella notte quattro malviventi giunti a bordo di un'auto di grossa cilindrata hanno tentato a più riprese di far esplodere lo sportello dell'ufficio postale in via Allegri. Dopo aver posizionato il materiale esplosivo prima la banda ha tentato di far esplodere questo sportello Bancomat, poi non riuscendo ci hanno tentato di rubare all'interno dell'ufficio postale ma a quel punto è scattato l'allarme e sono fuggiti. Sul posto sono giunti tempestivamente i carabinieri di Noale Mirano e del nucleo operativo radiomobile di Mestre già impegnati nel controllo del territorio notturno per eseguire i primi accertamenti e isolare la scena fino all'arrivo in mattinata degli specialisti artificieri del comando provinciale di Padova che hanno rinvenuto e posto in sicurezza la marmotta ancora infilata all'interno dello sportello per poi disinnescare e rimuovere l'esplosivo. Il sistema di sicurezza delle poste è stato determinante scattato alle 3.48 ha inquadrato i malviventi in azione e fatto intervenire automaticamente i carabinieri. Il rafforzamento dei sistemi di sorveglianza ha consentito di ridurre notevolmente furti e rapine negli uffici postali. A Venezia e provincia sono incrementati i servizi di vigilanza armata e 126 uffici sono stati dotati di speciali casseforti con apertura temporizzata mentre tutti i postamat di nuova generazione hanno in dotazione il macchiatore di banconote. L'ufficio di via Allegri resterà chiuso qualche giorno per permettere i lavori di ripristino mentre i carabinieri indagano per identificare i responsabili.